Buona la prima, ce la siamo levata, col brivido, in qualche modo il brivido dobbiamo averlo sempre, però è andata. Una partita non bellissimissima. Io sto leggendo in queste ore, questi primi minuti, post partita, delle glorificazioni di questa partita. Sì, certo, abbiamo vinto, meritatamente, nel complesso, perché credo che l'Italia abbia concesso davvero poco, però da lì a glorificare l'impresa andiamo con calma, perché le partite toste iniziano, se vogliamo, alla prossima con la Spagna. Quelle veramente che fanno la differenza, quelle veramente che ci diranno la dimensione di questa Italia, quelle veramente che ci diranno dove forse potremo arrivare. Quindi, senso, con calma, io forse sarà che sono laziale, quindi tendo ad essere molto molto cauto nelle tempeste emotive, sono tendenzialmente un po' pessimista, ben sapete. Però, nel senso, siamo partiti poi col brividone, perché poi anche lì una distrazione ci può stare inizio europeo, forse la troppa tensione che ti fa l'effetto opposto e quindi succede quel che succede. Però, bella la reazione, una squadra che ha saputo reagire, tenere il campo, ritrovare subito pariggio e vantaggio. Quindi, a livello caratteriale, credo che questa squadra ne abbia, possa fare. Però, al tempo stesso, riconoscendo il valore, se vogliamo, emotivo, la potenza, la resistenza, la resilienza di questo gruppo, devo anche dire che, da un punto di vista puramente tecnico-tattico, non mi ha fatto credere al miracolo sta partita. Una squadra che fa tanto giropalla, ma che manca forse di fantasia, in alcuni momenti. Una squadra, si direbbe, molto operaia, no? Che è un termine, tra l'altro, che lascia un po' il tempo che trova, ma che descrive, forse, le caratteristiche di questa squadra in maniera precisa. Perché è una squadra che manca di quelle individualità brillanti, quei nomi altisonanti, come potevano essere in scorse edizioni, ma che ha un gruppo più completo, in cui il top player assoluto in questo momento, appunto, è Barella. Sembrava che stessa Barella non fossimo in grado di affrontare neanche l'Albania, che mi sembra, forse, un po' eccessiva e svilente per il resto del gruppo. Perché Barella, vabbè, lo conosciamo tutti, giocatore di altissimo livello, però non è il ruolo di appartenenza, non è il bomber senza il quale non segni se non c'è, però è chiaramente un equilibratore importante di questa squadra, tanto in fase di non possesso che di possesso. Per cui, meno male che c'era. Però ecco, questo fatto di aver caricato tanto Barella come l'uomo chiave, l'uomo simbolo di questa rosa, ti dà un po' la dimensione di quale sia in questo momento l'Italia che si presenta agli europei. Però, ripeto, bene aver pareggiato subito, benissimo aver segnato subito il vantaggio, poi da lì, ragazzi, è stato un continuamente proporsi, salvo poi non riuscire a chiudere, tanto è che Spalletti era un po' nervoso, o meglio nervoso, non pienamente soddisfatto, diciamo. Se no ci mettiamo in coda tutte quelle narrazioni fantasiose che vengono fatte dopo le partite pro e contro. Però ecco, non pienamente soddisfatto, sembrava, perché l'Italia avrebbe potuto e forse dovuto gestire meglio alcuni frangenti ed essere un po' più cinica, un po' più cattiva sotto porta. Ecco, stasera io, quello che posso dire, ho sentito veramente la mancanza di un calciatore che fosse il perno offensivo di questa rosa. Scamacca lo conosceva, ha fatto una stagione straordinaria all'Atalanta, ma non è quel bombe alla Christian Vieri, no? In grado di cambiarti le partite. E oggi devo dire che è stato anche forse un pochino più fiacco rispetto al suo solito. Non l'ho visto molto in palla. Poi però esce Scamacca, entra Retequi, cioè non abbiamo le alternative, quelle forti, quelle significative, quelle che spaccano le partite. Hai una buonissima rosa nel complesso, però dove manca secondo me forse un po' di fantasia. L'unico secondo me insostituibile, irrinunciabile, stasera su da parte Barella, ma ripeto, Barella ha un ruolo un po' più equilibrato e Chiesa, ragazzi, Chiesa stasera ha fatto il panico, quella fascia, e devo dire che non è una sorpresa. Chiesa secondo me qualitativamente è il miglior calciatore di questa nazionale ora, se parliamo di valore tecnico in fase offensiva, chiaramente, e lo ha dimostrato. È l'unico che salta l'uomo, è l'unico che ha quell'approccio mentale, quelle caratteristiche, quella voglia, quella follia in alcuni momenti di provare anche giocate che agli altri non gli vengono manco per l'anticamera del cervello. E ripeto, è una squadra che è molto inquadrata, molto... è un po' un metronomo per certi versi, ma a cui manca... non lo so. Io poi, ecco, ora, al di là delle riflessioni un po' più... quanto più oggettive possibili, cercando di inquadrare un po' la partita, una riflessione puramente personale, prendetela come tale, ma è una condivisione di un pensiero che peraltro avevo anche oggi, nel pomeriggio, un amico che ne parlavo. Io non riesco, non so perché, ma è la manifestazione sportiva degli ultimi vent'anni che sto sentendo meno. Mi spiego. Sento in questo gruppo una mancanza di carisma che si riflette sulla mia capacità di farmi coinvolgere. Cioè, non sono fomentato come lo sono stato negli anni passati, scorsi mondiali, scorsi europei, cioè quando sono capitate quelle spedizioni così particolari, perché non riesco a identificarmi realmente in nessun calciatore di... che, ripeto, potrebbe anche essere un pro e non un contro, avere un gruppo uniforme, senza uomini immagine, però mi manca quel calciatore che mi susciti l'euforia, la speranza, quei affidi, tutto quello che, no? Penso... che ne so, vabbè, io vado molto indietro pensando a Baggio e Del Piero, ma anche lo stesso Totti che nazionale per me perdeva la maglia giallorossa e indostava quella da nazionale. Penso a Balotelli, ragazzi, a me Balotelli mi fomentava in una maniera indescrivibile quando stava nel suo prime. Adesso, purtroppo, li guardo, sì, Chiesa mi piace tanto, ma non riesco a... non lo so, non riesco a spiegarvi neanche io realmente quello che provo, però mi manca quel fattore fomento, ecco. Ed è un qualcosa che un pochino accuso, perché non c'è nessuno che quando prende palla ti fa vibrare. Oggi vedevo... l'Albania aveva adesso un giocatore che mi sfugge il nome, ma ogni volta che toccava palla tutti gli albanesi andavano un po' in fiabiliazione, perché è quello che faceva i diri a giro, per intenderlo. Cioè, il nome ce lo so, punta la lingua, ma non mi viene. È quello quello che intendo. Cioè, quel giocatore a cui tu affidi preghiere, speranze, ci manca. E ripeto, potrebbe essere un bene, perché non hai un punto di riferimento anche per gli avversari da chiudere, da braccare, no? Però per un tifoso un po' manca. Cioè, è una nazionale molto educata, molto equilibrata, che da fuori però mi sembra mancare un po' di personalità, carisma, carattere. Sembra... Però vediamo dove si va così. Che poi è che lì è frutto magari un po' delle scelte del tecnico, un po' di una generazione che non è così... sconvolgente. Ecco. Però, ripeto, fu una riflessione che mi sentivo di fare anche per capire se sono l'unico a avere queste sensazioni oppure no. Ora ci mancano due partite. Questa è iniziata benissimo, devo dire. A livello di punteggio, ora però toccherà vedere la Spagna. Spagna oggi non ho potuto vedere la partita, ma sono molto curioso di vedere come ci rapporteremo noi con una nazionale del genere. perché loro sono tra i favoriti. Noi non lo siamo, che è un bene, in certi versi. Però ecco, spero che si riesca a vedere una nazionale magari un po' più brillante, un po' più coraggiosa, un po' più arrogante. Ecco. Vorrei vedere una nazionale un po' più arrogante in qualche momento. e chissà che con la Spagna non si possa vedere un po'. Comunque, ragazzi, questo è. Volevo giusto scambiare due parole e vediamo cosa ne pensate voi. Ragazzi, sempre Forza Lazio che male non fa. Noi ci vediamo nei prossimi giorni. Appena c'è qualcosa di rilevante, di interessante, ne parliamo. Noi ci vediamo nei prossimi giorni.